Come si riesce a coniugare una cantina con l'arte del teatro? Qual è il trait d'union che mette insieme queste due espressioni anche artisti se vogliamo? La volontà sicuramente di creare un evento in una bella cornice come il giardino, il parco della nostra azienda dove di solito molti turisti, molti visitatori, molti amici vengono a degustare i nostri prodotti e spesso ci dicono ma che bello come si sta bene qui e da lì è nata un po' questa idea di fare un intrattenimento che sia sempre di tipo culturale però anche divertente. Faremo una cena coordinata dallo chef Massimo Biagiali del Giardino di San Lorenzo che proporrà quindi in abbinamento ai nostri vini bianchi le sue specialità e soprattutto le sue materie la sua ricerca di materie tutte a chilometro zero e comunque di altissima qualità abbinate appunto ai nostri bianchelli perché white, be white è il tema della serata b come bianchello, b come bianco e appunto bianco come anche il dress code perché insomma chiediamo a chi verrà a trovarci un abbigliamento che abbia un qualcosa di bianco e ci sarà questo teatro delle isole di Pesaro che proporrà questa rappresentazione con riferimento alla storia, alla battaglia sul metauro alla quale è legata anche la leggenda della nascita del bianchello però ce la proporrà appunto in una veste un pochino più divertente.